Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul canale di doppio passo Scusate se parlo a bassa voce ma sto registrando questo video all'una di notte Visto che non ho avuto praticamente tempo per farlo E scusatemi anche se ve lo porto solamente un giorno prima dell'inizio del campionato Ma vi giuro che questi giorni tra lavoro e studio non ho avuto veramente tempo E soprattutto volevo aspettare di avere questo bel nuovo amico Nuovo microfono e una nuova telecamera che ho comprato Ma in questo momento non posso utilizzare perché sta caricando E soprattutto poi dovrei sincronizzare l'audio del microfono, l'audio della telecamera Quindi è tardi, preferisco portarvi subito il video Tanto la qualità arriverà, la telecamera l'ho comprata I prossimi video saranno con la telecamera nuova Quindi adesso per questo video diciamo che quello che dovete guardare è il tabellone Non sono io Iniziamo, scusatemi, subito con il pronosticone E iniziamo con il gruppo A Dobbiamo selezionare le squadre in ordine di posizione Per me al primo posto finirà la Germania Al secondo posto a sorpresa potrebbe finire la Scozia Al terzo posto la Svizzera e al quarto posto l'Ungheria Poi io non mi dilungherò tanto sulle squadre Su tutto perché se seguite la mia pagina su Instagram Che dovete assolutamente seguire Avete in pratica la mia idea su tutte le squadre Se avete seguito il mio evento europeo vi ho analizzato tutti i gironi Vi ho analizzato squadra per squadra E per chi è nel mio gruppo privato E per chi partecipa al Pante Europeo che ho organizzato con la mia pagina Vi ringrazio ancora perché siamo veramente tanti E avete anche tutti i miei antepost Quindi per questo europeo vi ho preparato in maniera impeccabile Però continuiamo senza dilungarci troppo Con il gruppo B vi vado a mettere al primo posto la Spagna Al secondo posto l'Italia So che molti stanno dando l'Italia per morta Io non la penso così Al terzo posto a sorpresa ci mettono l'Albania E al quarto posto la Croazia Così come i mondiali I mondiali è andato male Vediamo se questa volta un po' l'audio la Croazia lo ammetto Poi gruppo C vi metto l'Inghilterra al primo posto La Serbia al secondo posto A sorpresa la Danimarca e la Slovenia Quindi queste in ordine Però al contrario 4,3,2,1 Nel gruppo D vi vado a mettervi la Francia al primo posto L'Olanda al secondo posto L'Austria al terzo posto Che per me la spunterà sulla Polonia Che finirà al quarto posto Nel gruppo E io vi metto il Belgio al primo posto La Romania al secondo posto L'Ucraina al terzo E al quarto la Slovacchia E nel gruppo F vi vado a mettere Portogallo Repubblica cieca Turchia e Georgia Quindi Ricapitolando Vanno a casa per me Dalla prima fase Ungheria Croazia Slovenia Polonia Slovacchia e Georgia Ma le due di notte Questo passa col moterino Quindi Adesso dobbiamo andare a scegliere Le terze migliori classificate Le terze migliori classificate Io vi spiego Secondo me Cioè In base a cosa le vado a scegliere Per me ha più probabilità Ad esempio Di fare quattro punti L'Ucraina Dell'Albania Che è in un girone molto difficile Così come Ha più probabilità Di fare quattro punti La Turchia Che La Danimarca Che è in un girone Con Inghilterra e Serbia Quindi Siccome le migliori terze Sono quelle che faranno più punti Io Come migliori terzi Vado a mettervi La Svizzera L'Ucraina La Turchia E la Danimarca Quindi secondo me Se ne vanno a casa Anche Albania E Austria Con l'Austria Che secondo me Vincerà con la Polonia Tre punti Potrebbero anche non bastare Per passare come terza classificata Quindi Io da queste terze Lascio fuori l'Albania E l'Austria Abbiamo i nostri No Scusate Le terze dove sono? Ah perché devo farle tutte Ok Quinta E sesso Ok Non mi rilano i calcoli Adesso Abbiamo i nostri Ottavi di finale I nostri ottavi di finale Io ci vado a mettere Scozia Italia Per me passerà l'Italia Germania Serbia Peccato Vedere uscire la Serbia così Non me l'aspettavo Però Passa la Germania Inghilterra Spagna-Ucraina Passa la Spagna Tra Olanda e Romania Per me la Romania E la Serbia Potrebbero essere potenzialmente Le due sorprese del torneo Ma L'Olanda Ha una squadra Molto forte A mio parere Secondo me Alla fine Passerà il turno Tra Portogallo e Svizzera Quindi un rimatch Del clamoroso Ottavo di finale del mondiale Che è finito 6 a 1 Non mi sbaglio Vincerà di nuovo per Portogallo Per me Passerà la Francia E tra Belgio e Danimarca Per me Passerà il Belgio Quindi Se i gironi Andranno come io penso Gli ottavi Dovrebbero Non dare Troppe sorprese E quindi ci ritroveremo Con Olanda Portogallo Germania Spagna Italia Inghilterra Francia E Belgio Tra le prime 8 Che sono Le squadre più forti Probabilmente Quindi Diciamo Un europeo fin qui Un po' troppo liscio Non so quanto potrà essere Affidabile il mio pronosticone Vediamo Vediamo un po' Tra Olanda E Portogallo Per me A sorpresa Passa l'Olanda In semifinale Tra Italia E Inghilterra Purtroppo Ragazzi Passa l'Inghilterra E comunque Non mi dispiacerebbe uscire Quartieri finale Ci sa Ci sarebbe uscire Quartieri finale Contro l'Inghilterra Per me La super favorita Di questo torneo Tra Germania e Spagna Passa la Germania E tra Francia e Belgio Passa la Francia Quindi Ci ritroviamo Con una super semifinale Che dovrebbe essere La finale Probabilmente Inghilterra Francia E con un'altra semifinale Un po' più equilibrata Olanda Germania E per me Passeranno L'Inghilterra Da una parte E Ragazzi Io ve lo dico Qui ve lo dico E qui ve lo nego Non so perché Ma La Germania Mi sa di quella squadra Che ora è molto Sopravvalutata Che è sicuramente Tra le favorite Ma Che Non lo so Secondo me Incepperà In qualche piccolo errore E questo piccolo errore Potrebbe essere Proprio questo Potrebbe essere Proprio questo E potremmo vedere Clamorosamente L'Olanda In finale degli europei E a quel punto Per me I vincitori Saranno loro ragazzi Quindi Il mio pronostico Ve lo dico sincero Non Cioè L'ho fatto un po' Giocando Sapete quello che penso Su questi campionati europei Sapete quali sono Le squadre che penso Che possono arrivare in fondo Quali sono le squadre Che penso Che possano deludere Quali sono quelle Che penso Che possano sorprenderci Sapete tutto Per me Questi europei Li vinceranno L'Inghilterra E con il mio pronosticone Li vinceranno L'Inghilterra Fatto sta che Per verificarsi Questi ottavi Per verificarsi Questi quarti Devono essere Giuste tutte le posizioni In classifica Potrebbero tranquillamente Alternarsi Quindi poi Magari ritrovarci Un ottavo Non lo so Italia-Ucraina Oppure ritrovarci Degli ottavi Come Olanda-Belgio Perché magari Che ne so Il Belgio Fa secondo Potrebbero cambiare tutto Però Da quello che mi dice Il mio tabellone La finale sarà Inghilterra-Olanda Secondo me E vincerà l'Inghilterra Però continuiamo Perché il prossimo Non è finito Come verrà finita La finalissima Per me Tempi regolamentari Quanti gol Facciamo Tre Quanti cartellini rossi Per me Zero Quanti cartellini gialli Finale Quindi Partita calda Ma non troppo Abbastanza tecnica Come partita 15-5 E Quanti corner Qua Stiamo Volando 14 Quindi ragazzi Questo è il mio Pronosticone E Secondo me Farò zero punti Però Non mi piace per niente Come è uscito Questo tabellone Sinceramente Però Sapete che Come D'obbligo Io Vado a portarvi Sempre Il mio Pronosticone Sul Youtube E fatelo Partecipate Perché Tanto alla fine È gratis Questa Offerta Di SNAI E Comunque Si possono Vincere E portare a casa Dei benaventi Premi a gratis Quindi Non costa nullo Fare il primo Pronostico E vedere Secondo voi Ragazzi Quindi Chi vincerà Questo europeo Per saperlo Bisognerà Aspettare Almeno un mese Vetti Il mio Crescieto Fa la ruota All'una di notte È più attiva di me Quindi Ragazzi Io Vi lascio Questo video È stato abbastanza breve Coinciso Perché sapete Già tutto Sapete già Quello che penso Quindi Seguitemi Sulla pagina Instagram Seguitemi Sul canale Youtube Seguitemi Insomma Da tutte le parti Buon Fante europeo Buon europeo E Vi raccomando Per rimanere Sempre aggiornati Ogni giorno Sul campionato europeo Seguite Doppio passo E fatemi sapere Per voi Chi vincerà Questo campionato europeo Ciao ragazzi